L'ASL Salerno ha pubblicato l'avviso di stabilizzazione del personale precario riservato a chi è in possesso dei 18 mesi di anzianità al 30 giugno 2022. Una notizia accolta positivamente dai sindacati per costruire la sanità del futuro, sottolinea il segretario della CGL Funzione Pubblica di Salerno, Antonio Capezzuto, è necessario pensare al presente rafforzando gli attuali organici, a partire dalla stabilizzazione di chi ha prestato servizio nei mesi più bui della storia sanitaria italiana. Quello del personale è una problematica ancora presente sul nostro territorio, soprattutto nei presidi periferici. Con questo processo, aggiunge Capezzuto, di stabilizzazione si avvia un percorso positivo di rilancio delle nostre strutture sanitarie. In merito interviene anche il segretario provinciale della CGL Funzione Pubblica, Affonso della Porta. È chiaramente un passo in avanti, sottolinea il segretario, così facendo si potrà dare finalmente ai lavoratori interessati la giusta ricompensa che hanno guadagnato sul campo, garantendo e sorreggendo un sistema sanitario regionale al collasso durante il periodo pandemico.